fra i tanti magnifici manifesti vov questo è uno dei più indovinati guardate che bello il movimento del pulcino cameriere e guardate come già allora si affermava l'unicità del vov quale autentico zabaglione della peziole unico fabbricante la bottiglia è quasi identica è identico e ancora oggi il suo contenuto un liquore zabaglione fatto di zucchero uova marsala stravecchio e il colore giallo è proprio il colore dell'uovo e si sente quando volete un vov osservate bene l'etichetta ricordate il nome che si legge sempre allo stesso modo da sinistra a destra come da destra a sinistra è un marchio inconfondibile d'estate a molti anche a me piace freddo e l'avete mai provato sul gelato in casa mia non manca mai una bottiglia di bov